Sì, c'è anche quelli da... La Praia da Pana, ma il volo... Gli Stato, che vicino a Pana Mesa. La Praia del Pana Flosso, che ha visto nel piede con la grande la Pana Mesa. La Pana Mesa. La Pana Mesa di Pana Mesa. La Pana Mesa. Ed è stata la Pana Mesa, che viene da parte del piede con la Pana Mesa. Gli Stato, che si tratta per la Pana Mesa. Gli Stato, che si tratta per la Pana Mesa. Grazie a tutti.